Ho giocato la carta Francia, in funzione del fatto che in Italia non ci sono più soldi. Così Michele Placido, chiamato in Francia per girare con Daniello Tei e Mathieu Cassovitz una storia d'azione, quella di Il Cecchino. E l'autore di Romanzo Criminale non si risparmia, chiamando nel cast del film in un ruolo importante anche Luca Argentero, che nel ruolo del rapinatore di banche si è fatto notare oltralpe. Eroi e anti-eroi si mescolano nel film e danno ricchezza. Ed è, secondo me, una cosa molto propria del cinema di Michele, che ormai è un'autorità rispetto al cinema criminale. Sua moglie nel film è Violante Placido, emozionata soprattutto per le scene girate con Daniello Tei. Delle piccole scene però con Daniello Tei, che è un mostro sacro. Non ho rimesso, mi hanno messo anche una certa pressione, invece è stata una persona, anche Serafica, mi ha messo molto a mio agio. Grazie a tutti.